Oggi vediamo insieme come risparmiare almeno un'ora di studio al giorno in modo tale da recuperare quell'energia che stiamo sprecando e soprattutto evitare di spiegare anche il tempo prezioso che possiamo investire in modo più produttivo per altre attività. Ti faccio capire qual è questa strategia, ma prima di farlo voglio ricordarti che puoi richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari attraverso i link che trovi qui sotto in descrizione. Nel link basta inserire il tuo nome e la tua mail. Proprio in questa mail riceverai tutti i contenuti del corso. È gratuito, sicuramente ti potrà dare una mano, ti può aiutare, quindi provalo anche perché non hai proprio nulla da perdere. Tornando invece all'argomento del video di oggi, vediamo insieme la sigla e poi ti faccio capire come risparmiare almeno un'ora di tempo di studio nella tua giornata. Quindi vediamo insieme questa strategia che dovresti provare per risparmiare fino ad un'ora di studio al giorno. È una strategia in quattro momenti diversi, in quattro fasi in un certo senso, non sono per forza sequenziale, quindi puoi partire da quella che vuoi. Quindi è sostanzialmente il nostro obiettivo di ottimizzare il tempo che abbiamo a disposizione, quindi non ti chiederò di fare di più rispetto a quello che stai facendo adesso, ma invece di eliminare il superfluo. Questo è l'obiettivo. Questo eliminare avviene appunto in questi quattro momenti che ti nominavo qualche istante fa. Partiamo con il primo. Devi cercare di evitare e di eliminare le partenze ritardate. Spesso quando dobbiamo iniziare a studiare pensiamo, va bene, mi siedo intanto sulla scrivania e poi appena ho voglia inizio. Questo è qualcosa che dovresti eliminare perché non ti dà quella possibilità di controllare i risultati che ottieni. Perché magari oggi avrai voglia dopo 5-10 minuti, il giorno dopo non avrai proprio voglia di studiare. Allora cosa fai? Non studi? Oppure aspetti ancora di più? Quindi non ha senso. Devi cercare di impostare un'ora, scegli un'ora che ti viene comoda e inizia sempre a partire da quell'ora. Quindi fai dipendere l'inizio della sessione di studio non dalla tua voglia, dalle tue emozioni in un certo senso, ma invece da qualcosa di esterno. Ovviamente l'ora è la cosa più facile da considerare, quindi scegli tutti i giorni di iniziare a studiare a partire dalle 5 del pomeriggio. Va benissimo, inizia a studiare. Questa è una strategia molto più efficace che ti permette di eliminare le partenze ritardate. Passiamo al secondo momento, al secondo step. Devi cercare di eliminare quelle pause impostate a caso, perché spesso se inizi a studiare magari abbiamo anche un buon ritmo, quindi studiamo per un'ora e poi facciamo tre quarti d'ora di pausa. Non ha molto senso. Io ti consiglio, anche per mantenere un buon livello di concentrazione e qualità nell'apprendimento a lungo termine, di partire sempre da una quantità di tempo non troppo elevata di studio, qui per esempio ti ho proposto 20 minuti di studio, e poi cronometrare per esempio 5 minuti di pausa o 10 minuti di pausa. Questo cronometrare le pause in modo strategico ti permette intanto di regolarizzare l'alternanza studio-pausa, studio-pausa, sempre con una stessa quantità di tempo. Non andiamo a sensazione, non andiamo a voglia, non andiamo a come mi va in questo momento, ma andiamo appunto a controllare il tutto con elementi esterni, in questo caso con un cronometro. Dico cronometro, puoi tranquillamente guardare l'orologio, ma va benissimo anche andare a tenere tracce in modo preciso del tempo che ti serve per studiare, soprattutto del tempo che passi come pausa. Possiamo quindi passare anche al terzo elemento superfluo, che dovremmo eliminare, cioè tecniche troppo complicate, o l'unione di più tecniche per arrivare ad uno stesso risultato. La regola che dovreste seguire è questa, a parità di risultato, di studio, quindi di qualità nell'apprendimento, è molto meglio utilizzare meno tecniche, soprattutto scegli quelle più efficaci. Quindi se vuoi, per esempio, comprendere il materiale, non ha senso leggere, leggere, puoi sottolineare, puoi fare schemi e quant'altro. Se l'obiettivo è la comprensione, utilizzi una tecnica specifica per comprendere, che sarà ovviamente più diretta all'obiettivo, perché elimina step che non servono, per esempio quello della ripetizione, che non serve per comprendere. Prima comprendiamo il materiale, poi ce l'aniamo ad esporlo oralmente, che poi in modo volgare è detto, appunto, ripetere. Quindi vai sempre ad eliminare cose complicate, semplificati la vita, ma senza dimenticare, senza tralasciare la qualità nelle tecniche e quindi nell'apprendimento. Quindi scegli meno tecniche, il più efficace possibile. E questo è il terzo elemento, andiamo all'ultimo. Dividi le ore di studio. Io ti consiglio di dividere le ore perché, a mio avviso, concentrare troppo sforzo in poco tempo non rende lo studio più efficace. La cosa invece davvero, davvero efficace è quello di organizzare la giornata, magari vuoi studiare due ore, studio un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio, o un'ora al pomeriggio e un'ora alla sera, o un'ora al mattino e un'ora alla sera. L'importante è permetterti di avere quel tempo necessario a quel recupero mentale, in termini di attenzione, in termini di concentrazione, in modo tale che poi arriverai a fine giornata, avendo mantenuto la qualità nell'apprendimento. Quindi non ha senso concentrare troppo le ore di studio, meglio andare ad organizzare la giornata in modo ottimale, in modo più performante, possiamo dire anche così. Quindi questo era quello che ti volevo proporre nel video di oggi, questa strategia in quattro diversi step per riuscire a recuperare fino a un'ora di studio al giorno, ottimizzando, quindi non andando ad aggiungere altre cose a quello che fai normalmente, ma eliminare le cose superflue con strategie e tecniche più specifiche. Se hai dubbi, domande, ovviamente non farti problema a scrivere nella sezione dei commenti attraverso i contatti che trovi in descrizione. Ti rinnovo l'invito a richiedere l'accesso al corso gratuito sul metodo di studio per studenti universitari e il link lo trovi sempre in descrizione. E ti aspetto con moltissimo piacere nel video che uscirà domani. Grazie. Grazie. Grazie.